Numero 115, Manuel Grifeper Allora, Manuel Dupsey, un po' avvocato per quanto riguarda il campionato del mondo Budapest e stessa cosa vale per voi due, potrete ridiscutare la partita tra 14 giorni Abbiamo un campionato italiano, il primo classificato, signore e signori per la saga dei supereroi X-Men Abbiamo Eugenio Maniccia, il secondo Davide Zambaldi Grazie